Fantini e Cavalli erano pronti a sfidarsi, tutto attorno a loro, in una sorta di cordone di sicurezza dei decini di spettatori, presumibilmente interessati, anche economicamente, alla corsa. Una corsa clandestina, organizzata per di più in pieno giorno in zona d'Amma, Siracusa. A far saltare i piani dei convenuti, l'intervento della polizia. Un uso di servizio aveva notato lo strano movimento e in pochi minuti è scattato l'operazione. Gli agenti hanno letteralmente sorpreso tutti al via con un fuggifuggi generale a cui non ha potuto partecipare due Fantini, arrestati e finiti ai domiciliari. Indagini in corso per ricostruire i passaggi organizzativi e le modalità utilizzate per pubblicizzare l'evento e raccogliere le più che probabili scommesse clandestine, puntate sui due cavalli in gara. Arrestati un uomo di 44 anni e uno di 47, colti nella fragranza dei reati di attentata alla sicurezza e maltrattamento di animali, violazione del divieto del combattimento tra animali. L'intervento della squadra mobile intorno alle 14 di sabato scorso, mentre percorrevano l'arteria, gli agenti hanno notato che la sede stradale era occupata da due cavalli in corso, sembrigliati dai calessi condotti dai rispettivi Fantini, con al seguito tantissime persone a bordo di motociclo e autovetture. Vista la situazione di pericolo per gli automobilisti in transito, anche in considerazione dell'orario particolarmente trafficato, gli operatori intimavano immediatamente i partecipanti l'alt. I due uomini sono stati condotti ai domiciliari, il cavallo e il calesse necessario per la corsa sono stati sequestrati, denunciati in Stato di Libertà anche due degli spettatori che seguivano la corsa.